Partenza regolare, si lotta per il comando dove dall'interno emerge Rhapsody con all'esterno sogni Rhapsody, sogni Wolverine che ha all'interno Regalini, all'esterno Edenward e Occole. In questo ordine i cavalli affrontano la prima discesa dopo il primo passaggio con Rhapsody che mantiene in comando, dall'esterno la progressione di Edenward che risale in seconda e va in caccia del fugitivo Rhapsody. Rhapsody che mantiene il comando delle operazioni con una di vantaggio nei confronti di Edenward, terza posizione per sogni mentre muove all'esterno Regalini che ha all'interno la progressione di sogni, sogni che attacca unitamente a Wolverine, tre cavalli in linea ad affrontare il secondo passaggio. con il bambino di strada Rhapsody, avvicinato da sogni, terza posizione scivola Edenward che ha Occole che prova a cambiare marcia con all'esterno Wolverine e Regalini. Ancora tutto da decidere quando i cavalli affrontano la piegata di fondo con la progressione di Occole che percorso esterno e passa a condurre Occole che scivola via traccinando in cia Regalini che risale all'esterno prova a portarsi in caccia del battistrada Occole che mantiene il comando delle operazioni con la parte di Regalini inizia il giro con il battistrada Occole sotto la minaccia dei Regalini con all'interno anche sogni che prova mentre gli altri sanno abbagliati fuori con Wolverine che ci trova dalla quarta posizione. E' un'altra parte di Regalini con i cavalli che affrontano l'inizio della retta opposta e Occole che mantiene una lunghezza di battaglia nei confronti di sogni che prova ad attaccare l'uomo all'esterno oppure impegnata a resistere con l'attacco ancora di sogni che non molla mentre prova a tornare sotto anche Regalini. Grazie a tutti!